come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro benvenuti sul lago dei pupazzi di neve fatto delle lacrime ghiacciate del polpo piagnucolante è una festa invernale i pupazzi di neve sui pattini vanno si stanno divertendo ma vi urteranno e ad aspettare vi costringeranno per oltrepassare i pupazzi di neve scontrosi e non scivolare piccoli passetti prudenti con i piedi allargati dovrete fare fare piccoli passetti prudenti per evitare di scivolare e cadere ma come possiamo fare